Ops a tutti miei cari upsini ciao a tutti oggi sono qui, 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 qui solo per voi solo per voi per registrare questo nuovissimo video ASMR per registrare questo nuovissimo video come sempre scusate un po' le mie condizioni ma facciamo il possibile quindi cosa faremo in questo video? un po' di tutto un po' il mio solito, no? era da veramente tanto tempo che non prendevo in mano il Tascan così ho deciso di fare un video con questo fare un po' di sussurri molto geni alle orecchie un po' di tongue clicking di mouth sounds un po' di cose un po' di cose un po' di cose un po' di cose già mi viene sondo quindi mi raccomando indossate indossate un paio di cuffie o auricolari cuffie o auricolari e stendetevi 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 sul vostro letto, va bene? quindi cominciamo io direi di iniziare iniziare facendo qualche sussurro proprio vicino alle orecchie che ne dite? che ne dite? che ne dite? mamma mia cos'è stamattina? cos'è stamattina? mamma mia cominci 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 attualmente sono tipo le tre e un quarto di notte di domenica tredici marzo tredici marzo e sono qua per registrare questo video che uscirà giovedì quindi mi raccomando giovedì vi voglio tutti collegati sul canale a vedere questo video così poi mi fate sapere cosa ne pensate cosa ne pensate cosa ne pensate cosa ne pensate è che non ho preparato questo video per bene Quindi non so esattamente al cento per cento cosa dire o cosa fare Improvviseremo un pochino Adesso però una cosetta la voglio fare Adesso ti faccio chiudere gli occhi Quindi chiudi gli occhi Chiudi gli occhi, chiudi gli occhi Che sono? Ti faccio chiudere gli occhi E ti faccio immaginare di essere in una piccola casetta in montagna Tu sei davanti al cammino E quindi davanti un bel suono del cammino Che ti riscalda Che ti riscalda Ti riscalda Lo senti il cammino? Bene, tu ti stai riscaldando Mentre fuori va molto 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 freddo Fuori Vedi la pioggia E senti anche la pioggia Senti come spatte sul vetro e sul legno della casetta Immagina questa cosa Quindi davanti hai il fuoco Il caldo Ti metti così per scaldarti Mentre ti guardi tanto Ti concentri Senti la pioggia La pioggia La pioggia che senti La pioggia che senti Poi magari ti sei messa una coperta calda Perché il calore del fuoco non basta Vuoi qualcosina in più? Ti sei messo o messa una coperta calda E ti senti veramente veramente bene Quindi mi raccomando Non smettere di avere questo pensiero Non dimenticarlo Ripensaci Ripensaci, ripensaci Chiudi gli occhi Chiudi gli occhi mi raccomando E vedi che ti rilasserai Così potrai fare qualsiasi cosa Io così ti consiglio Io così ti consiglio di addormentarti Con questo pensiero Perchè secondo me Perchè secondo me Ci riuscirai 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 Con questo microfono Ma scrivetemi nei commenti questa cosa Una mia curiosità Ma preferite i video con il talk Quindi con questo microfono Oppure con il blocchietti Che quel microfono non ci cante Che solito metto qua davanti Come ho detto però Stavolta ho utilizzato questo audio Perchè l'ultima volta L'ho utilizzato più di un mese e mezzo fa Quindi ho detto Utilizziamolo dai Tanto resterò qua per registrare Ancora una decina di minuti Un po' meno forse Quindi che si va in questi otto minuti In questi otto dieci minuti Io volevo farti qualche carezza sul viso Qualche carezza sul viso Qui ne ti ci no il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Posteranno fare i pati qua davanti? tu mi raccomando continui a ripensare alla pioggia il futuro me che sta editando questo video ormai l'avrò tolta già da un po' tolta ma non devi mai dimenticartela tienila in mente e usala come suono per rilassarti per addormentarti perché sono lettere 24 dovresti essere riusciti a leggere sono le 3 e 24 e dovete essere tutti 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 a dormire tutti 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 a dormire come vedete anch'io dovrei essere a dormire ma non ci preoccupiamo quindi ci siamo stiamo qua ancora un pochino insieme cercando di rilassarci insieme va bene devo capire come sistemarmi nell'inquadratura perché se sto con la schiena dritta sono un po' troppo alto quindi mi appasso quindi mi appasso mi appasso mi appasso ho ho Sì che bel tongue clicking che mi viene stanotte ti piace? ti piace? ti piace? ti piace? e via continuiamo adesso magari a fare qualche sussurro qui vicino sperando che il fiato non faccia troppa interferenza col microfono cosa possiamo dirci? ma non lo so perché proprio sotto video non l'ho preparato tanto già sapevo solo i grandi clienti ancora dovessi fare però va bene va bene va bene domani avrò tante tante cose da fare perché quando questo video sarà uscito intanto sul canale di Eclectic Alpha ASMR dovrebbe essere già uscito da tre giorni se non sbaglio tre giorni tre giorni tre giorni un video a sostegno dell'Ucraina o Ucraina e anche io volevo farne parte inviando un mio video quindi domani mattina appena mi alzerò dovrò editare questo video e spedirglielo perché oggi è l'ultimo giorno io ho scritto infatti dicendogli se gentilmente poteva aspettarmi perché la settimana scorsa ho avuto veramente tanti problemi tecnici l'ho detto che non c'era problema che non ero l'unico che quindi avrebbe aspettato intanto però adesso devo mantenere la mia parola registrare quel piccolo video editarlo e spedirglielo ma quel video uscirà prima di questo quindi se sarà uscito ce l'avrò fatta 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 è di iscrivervi al canale qua sotto con il tasto rosso che dice iscriviti per entrare a far parte della OOPS community e se siete dei maschiere di diventare i miei UPSini mentre se siete delle femminucce di diventare le mie UPSine poi mi raccomando lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto e commentate sempre qua sotto con tutto 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 quello che mi piace per la testa il video di oggi purtroppo finisce qua ma se tu 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 vuoi restare ancora insieme a me io ti lascio di qua di qua il mio video precedente di qua di qua di qua una mia playlist è qua 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 sullo schermo il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video vi vogliate spero quindi che siete riusciti ad addormentarvi e buonanotte vi mando un bacio e chiudete gli occhi grazie a tutti